Vi parliamo adesso di Aneta Buktova e Diego Tavani ossia l'ultima coppia che è uscita da Uomini e Donne di Maria De Filippi. E che ovviamente stanno provando a vedere come funzionano le cose fra di loro fuori e dalle prime notizie sembra anche molto bene. Dice Diego Tavani le prime uscite con Aneta Buktova fuori da Uomini e Donne. I. La prima sera ci siamo contornati di amici, siamo andati prima a cena e poi a bere una cosa, è stata una specie di festa per la nostra uscita, un momento molto bello. Sempre lo stesso ex corteggiatore di Maria De Filippi ci tiene a precisare che Anche il giorno dopo ci siamo organizzati per vederci la sera e Aneta mi ha detto, ti fermi a casa mia. Io in un primo momento ho detto, sì, poi mi è presa la strizza, ride, ma perché per me dormire a casa di una persona è qualcosa che rompe i miei schemi. E fa capire chiaramente sempre lo stesso corteggiatore Diego Tavani di Maria De Filippi di avere pensato a fargli una burla. Sono stato quasi tentato dal darle buca. Poi mi sono messo a prepara la borsa e mi sono reso conto che era il momento di mettere da parte le mie paure. Ho ritrovato l'entusiasmo. Poi ovviamente la stessa Aneta Buktova parla, ovviamente sempre a magazine rivista ufficiale del programma di Uomini e Donne e dichiara che Aneta Buktova sorride alle telecamere. Sì, siamo stati benissimo. Il giorno dopo abbiamo raggiunto dei miei amici a Villa Ada per la colazione, poi siamo andati dall'altra parte di Roma per vedere degli amici di Diego a pranzo. Concludendo con questo bellissimo messaggio ossia. Il pomeriggio ci siamo anche fatti una passeggiata in centro, insomma, ci siamo vissuti davvero per 24 ore consecutive. Insomma se impibra davvero che per loro uomini e donne, abbia davvero funzionato, non credete anche voi. Grazie. 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 Grazie.